e ciao ragazzi sono k007 oggi siamo su minecraft esatto siamo tornati su minecraft ma ma sì ecco perché ho la tuta incantata la corazza addosso incantata il piccone incantato con fortuna tre una spada usata e aspetta e sono con questa con questa skin non lo so vabbè perché ho tutta questa roba perché mi era preso di nuovo la voglia di giocare a minecraft perché mi era annoiato perché l'altra volta ogni volta alla serie si stoppa perché non trovo gli enderman perché per gli cercare l'end quella quell'altro e poi dopo un po è finito lì quindi dopo un po è brutto quindi mi è venuta questa idea mentre giocavo finché va faccio ma adesso siamo un minuto e 5 minuto e 6 questo video può durare 40 50 minuti non lo so quanto dura a me non mi interessa e beh tutta sta roba incantata l'ho rubata in questo villaggio sì vabbè e tipo ho trovato dei libri qua in questa cesta perché qua c'era il coso per incantare cavoli vari vabbè e quindi niente poi casa più grande era questa quindi ho rubato questa ho già il letto blu l'ho già un po arredata tutto rubato e sono state miniera ho preso sei diamanti qua poi ho fatto degli scambi ho trovato dell'oro poi infatti un coso vabbè in una cesta di un villaggio era c'era questa non mi veniva poi quasi ho trovato un pillager che aveva questo e dell'ossidiana perché non lo so stava in una cesta tutto questo in una cesta tranne sta roba che in miniera vabbè e quindi la serie sarà così qua tengo del cibo vabbè e perché ho un piccolo infortuna e tot diamanti ne ho sei diamanti allora già ho fatto la miniera casa mia ve l'ho fatta vedere quasi sicuramente come ogni volta vi lascerò lascerò lo spazio per le rotaie perché ogni volta a scendere non c'ho voglia allora ogni volta i diamanti li ho spaccati con un pochione normale però ero curioso ho trovato otto diamanti che era eccoli qua che li ho lasciati ho detto quanti diamanti con otto diamanti quanti diamanti posso avere con fortuna 3 se non ci credete guardate si è nuovo non l'ho mai usato ho voluto aspettare voi per usarlo guardare otto diamanti poi se ci sono sopra o sotto non lo so la lava non la sento allora vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 allora con otto diamanti non si legge però è un 21 ecco 21 diamanti e ho sbagliato a non portarmi il piccone normale perché che faccio spreco un piccone inciantato vabbè e questo momento non vi farò vedere io che starò in miniera perché la miniera sarà una cosa a parte perché sennò dopo una noia e cavoli vari però adesso vi ho fatto solo vedere a che punto stavo vabbè chi se ne frega dovrei mettere una pressure plate allora sì questo lo lascio qui per sicurezza ora avevo un piccone in ferro no lascia si mi si è rotta no aspetta ma chi se ne frega beh è fatto in giro senza piccone vabbè adesso non mi serve ciao tu cosa vuoi tu vuoi 20 di grano per uno smellardo no vabbè qua ci sono recinti che già c'erano qua ho sistemato un po perché prima era una montagna dritta piantagione che non uso perché io allora di verdura sul gioco o di frutta non mi ricordo che vabbè il mio costo preferito è le carote ok che saziano 1 però non lo so e poi come carne la carne di maiale io amo la carne di maiale sul minecraft allora vediamo se da qui mi posso lanciare vabbè quindi stavo dicendo in questo video può si può smettere adesso può finire in qualche momento può durare 40 minuti non ci interessa si è pieno di gatti intanto vi faccio vedere tutte le case beh non mi interessa daremo un'esplorazione perché sono spawnato esattamente qui io sono spawnato qui quindi vabbè che fortuna e poi mi era preso anche la voglia di rigiocere a minecraft perché perché mi si mi sono fatto ttoc però non è che faccio balletti e cavoli vari io preferisco guardare la gente io non faccio niente al massimo avrò caricato un video una foto però non so balletti non so niente sì ci sono tanti cavalli potrei prendere un cavallo però non lo so la me la saziava due non me l'ero scordata vabbè e questo momento non so perché mi viene l'unica cosa che mi viene in mente andare a scavare aspetta torno un secondo a casa perché uno perché sta diventando notte 1 fammi dormire intanto che uso i miei ultimi 4 di ferro perché mi lancio troppo spesso quindi preferisco farmi dei gambali ok dormo buongiorno allora la pietra la lascio qui ok non ho una mappa uno di uno di tipi aspettate questa è carta io la prendo perché aspetta come si fa la mappa non me lo ricordo aspettate perché mi voglio ottenere la mappa della casa allora mappa vuota mappa esplorata vuota mappa vuota a con ok ah non lo so più vabbè e serve dalla carta allora la carta si fa anche con del bambù ma io in questo momento mentre ho dato una bella girata non posso uscire di tua pio eppure però 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 mele dai prendiamo massimo ogni tanto prendo qualche mella solo tanto perché giustamente che mi scorda del mio orto davanti casa vado quello lassù non vado qua io adesso faccio questa cosa allora scusate se uso questa cosa però allora medio sereno però mi da fastidio vedete vedete ditemi quello che vi pare eh no quello da quello là giusto uso le patate perché per fare la boniola perché tanto io le patate non le voglio boom ecco come usare ecco come usare questa cosa ma se lo sapevo intanto pianto le carote se lo sapevo prima perché ho detto tanto ci provo ecco perché ho preso non scappate ok belli maialini venite qua venite qua venite brutti schifosi venite qua ok scemi levate boni questi sono come i tacchini in realtà brutti ma boni vabbè ho della bonnila ehm adesso che si ormai già che ci sto tanto l'ho detto questo video può durare 40 minuti non mi interessa finchè va va vi problema si faccio sempre la stessa strada uno perché per rivedere se tipo mi sono scordato qualcosa nelle ceste due perché non mi ricordo dove sono le cose qui questo centro l'hanno creato loro io non non ho fatto niente io mi sono solo ho rubato cose nella cesta mi sono appropriato nelle loro case ok allora qua levo solo le barbabietole perché il grano non lo so però vabbè ci posso mostrare a sempre ma ma è No